Appoggiamo una mano sul poggiapiedi, entriamo con la gamba che è più vicina al poggiapiedi, piegata, e stabilizzando bene la spalla ci solleviamo su, appoggiamo l'altro piede, allunghiamo il braccio. Posso fare anche solo questa preparazione, ma posso provare a spingere un po' il carrello in e fuori, in e fuori, ancora tre, ancora due, e l'ultimo. E torno, quindi chiudo il carrello, scendo giù, prima con la gamba che sta davanti e poi con quella sotto.